Ciao a tutti, allora io mi chiamo Andrea, ho 22 anni, vengo da un paesino di Bergamo, sono nato giù in Calabria, in un paesino chiamato Reggio Calabria, mi sono creato questo canale per... un po' perché non avevo un cazzo da fare nella vita, un po' perché volevo divertirmi un po' nel web pure io come fanno un bel po' di persone, quindi ho pensato dai facciamolo, vediamo cosa combino e poi niente, mi piace, allora mi piacciono... non so che cazzo mi piace, ora non mi viene in mente, vabbè mi piace il disegno, mi piace la musica, mi piace stare fuori casa, mi piace... vabbè mi sa che lo scoprirete più avanti comunque con i video che pubblicherò perché pubblicherò un pochino i miei interessi o cose del genere, quindi mi auguro possa piacervi il mio canale, non lo so, iscrivetevi se volete, se no, se no niente, quindi se volete cliccate il mi piace, il pollicione, come cazzo si dice, niente, ci vediamo, questo era un video di presentazione quindi non devo dire niente di speciale, poi niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!